Salve amici del centro meteo italiano. Mese di ottobre che terminerà in regime anticiclonico e non sono buoni gli aggiornamenti anche per l'inizio di novembre. Vediamo allora la tendenza. Nei prossimi giorni tempo più instabile al nord grazie al transito di un cavetto d'onda che porterà piogge temporali sparsi, specie sui settori alpini. All'inizio della prossima settimana è in colaticiclone dominare ancora al centro-sud portando tempo asciutto e temperature anche di 6-8 gradi al di sopra delle medie. Anomalia che continuerà stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli praticamente fino al termine di ottobre con l'alta pressione ben distesa tra Mediterraneo ed Europa centro-orientale. Impossibile dire come sarà il mese di novembre ma dando uno sguardo alle ultime uscite dei modelli stagionali possiamo vedere come la probabilità di avere anomalie positive di geopotenziale sia molto alta soprattutto sul Mediterraneo centro-orientale. A questo si associa infatti un'alta probabilità di precipitazioni inferiori alla norma nel trimestre ottobre-dicembre. Trattandosi comunque di tendenze eseguite come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.